Grazie a tutti. La quasi totalità delle caldaie a condensazione lavorano col metano e se il metano non ha zolfo questo problema non c'è, in realtà c'è questo problema. E queste piccole quantità di acidi, perché parliamo di piccolissime quantità, condensando la caldaia a condensazione, se non fosse adeguatamente profeta contro le corrosioni, durerebbe la stagione. Quindi questi acidi sono estremamente aggressivi, anche se in piccole quantità producono dei danni rilevanti. E quindi in qualunque tipologia di caldaia ci sono questi problemi. Naturalmente se usiamo il metano il problema è ridotto proprio ai minimi termini. Se usiamo gasolio e oggi con lo 0,1% di gasolio, diciamo siamo veramente avanti rispetto al gasolio di diversi anni fa, quando la percentuale di zolfo nel gasolio era l'1,1%. Adesso è lo 0,1%. Quindi la cartella è la copretta, questa? Sì, sì. Perché c'è scritto 0? No. La percentuale di zolfo? Per il metano? Sì, per il metano è praticamente 0. Sì, lo doveva scrivere il giovane. No, quello è ferricasolico. Sì, però sono d'accordo, però questa cartella non è 0, è 0,1%. Sì, è 0,0 qualche cosa, ma diciamo, ripeto, è ritenuto praticamente sempre, e si dice 0. In realtà poi non è proprio 0, ma quelle piccole quantità poi danno l'ho alla formazione dell'acqua di zolfo. Poi quanto sia, non te lo so dire perché non lo trovi da nessuna parte. Nelle caratteristiche del metano non ti indicano nessuno dei fornitori che si fa nel zolfo. Quindi in una cartella formale la problematica, diciamo, è relativa, ma in una cartella di condensazione i problemi venneranno fuori tutti. Anche l'acqua di un idrico. Parliamo di PPM, parte del milione, voltato dalla tabellina, sono quantità piccolissime, ma sono sufficienti a distruggere una cartella. Noi che ce la vogliono forse quantità. Che cosa? Eh, bravo. Adesso, fino a pochi anni fa, gli schiali fumari, per norma uni, si parlava di condotti metallici. Invece saranno un paio d'anni, due o tre anni, che sono stati omologati materiali plastici, anche per i condotti fumari, quindi resistenti alle corrosioni, resistenti alle temperature e emissioni dei fumi. E naturalmente i materiali plastici, solitamente, sono più resistenti di quelli metallici alle corrosioni. Ma sono stati metallici, oppure sono stati metallici? No, no, assolutamente. Sono ammessi anche quelli plastici. Cioè, fino a poco tempo fa, era obbligatorio avere delle gane fumari metalliche. Invece, ormai sono stati omologati anche, quindi riconosciuti i doni, a tutti gli effetti, della tenuta, delle deformazioni, della essenza delle temperature, anche alcuni materiali plastici. Naturalmente il fabbricante ricertifica e quindi possono essere... Ma questo perché sono passati alle temperature dei fumi? No, 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 perché hanno testato questi materiali e quindi li hanno ritornati i doni. È un'evoluzione, diciamo. Sono in meno. Un'evoluzione. Insomma, se non è, non resistono di più. Qualcuno se ne dice il metano è un azoto. Non è vero. Il metano è una piccola quantità. Per esempio, a Civita Vecchia, dove ci sono tre centrati, il problema dell'orzoto è rilevantissimo, perché nel metano ce n'è molto poco. Ma, vista la quantità di emissioni, il problema può diventare grave. Lì bruciano milioni di metri cubi all'anno, forse miliardi di metri cubi di gas. Quindi è chiaro che, insomma, se ne risentono... La piccola percentuale... La piccola percentuale può diventare rilevante. Caldante murali sono quantità piccolissime, però è in grado di danneggiare la caldaia. Quindi, questo punto di rugiata acido avviene la condensazione dell'acido solforo al di sotto dei 160 gradi centigradi. Ma non è che 159 condensa tutto l'acido. È un diagramma. In base alle percentuali dell'acido solforico contenuto nel combustibile, c'è una temperatura di condensazione. Quindi, per esempio, con gli oli combustibili di una volta, che oggi non esistono più, con il 3-4% di zoffo, bisognava uscire al cammino con i fumi sui 230 gradi, tra 200 e 250. Quindi, lontano, lontano dai 160, anche per evitare che zone fredde del camino, infiltrazioni di aria, creassero la condensa. Quindi, si stava a temperature notevolmente quante. Quindi, ricordatevi, non è un punto chiso, ma al di sopra di questa temperatura, non c'è la condensa dell'acido solforico. Al di sotto, comincia la condensazione. Dipende dalla percentuale di zoffo contenuta nel combustibile. La scala da 0 a 14, la neutralità è 7. Se la sostanza è acida, il reagente si colora di rosso. Se la sostanza è basica, all'inizio il reagente colora di verde, e poi, se è fortemente basica, si colora di blu. Questa è la scala del pH. Qui do con la cartina di torna solo, con delle gocce, diciamo, di alfosido reagente. Rosso, vedete, rosso sempre più scuro, pH sempre più basso. Questo è il numero 1. Numero 1, 2. Questo è il pH 7, vedete, è un vertino proprio appena accennato, poi diventa verde più scuro, poi diventa blu. Quindi, se una sostanza è acida, e allora siamo nella zona del rosso. Se è basica, leggermente basica, siamo sul verde, e poi andiamo sul blu. Quindi, le acque di condensa delle caldaie a condensazione hanno un pH basso, chiaramente 6, 5,5, qualcosa del genere. Prima di scaricare l'infognatura, ripeto, i difici civili, scarico l'infognatura. Se sono uffici, o altre attività, bisogna raccogliere queste condense, un recipiente, aggiungere con una posta e una dosa torre, una sostanza basica, aggiungendo la sostanza basica, il pH si porta a 7, ossia la neutralità, non è neacido, è basso, e poi si può scaricare l'infognatura. Però c'è un numero dei dipendenti, degli impiegati, che è sopra la persona, che è sopra i 12... Sì, se è una microazienda, ci deve essere già una certa quantità, diciamo, di liquidi, anche se poi si è visto che se tutto sommato si scarica l'infognatura con un pH leggermente acido, non si fa nessun danno, perché la prevalenza degli scarichi sono basici, lavatrice, lavastoviglie, dei tersini, c'è una forte basicità, quindi dalla fine forse converebbe quasi quasi mandarci un po' di... Questo prescinde anche dai combustibili, cioè il metano comunque prevede questo tipo di trattamento. Sì, allora il discorso è questo, stiamo parlando delle gattie a condensazione. Sì, per quello. Le gattie a condensazione devono essere a metano, per due motivi, perché il metano ha il 25% di idrogeno, e quindi forma un certo quantitativo di acqua. Il gasolio, quanto idrogeno ha? La metà. 12,3%. E quindi la quantità di acqua che si forma è la metà. E il calore che si recupera è la metà. Non solo c'è questo svantaggio, ma c'è anche lo svantaggio che è quello a gasolio, che nel gasolio c'è una percentuale di zordo abbastanza... quindi una gattia a condensazione può anche essere a gasolio. Però abbiamo a che fare con una corrosione molto più forte e con un recupero di calore che è la metà di quello di metano. E dalla fine, già in alcuni casi non conviene quello a metano. Fino a gasolio, se non bisogna farse un buco, un conto economico abbastanza preciso per vedere se conviene. È un po' precaria la situazione. Quella condensazione, in realtà in termini, ad esempio, civili, convengono tanto tutti. Se uno ha un uso costante... Esatto. La caldaia costa di più. Ha delle criticità che vanno considerate nell'installazione e nella manutenzione. Se viene usata poco, viene un po' vietto. Per esempio, impianti di riscaldamento, pure qui, Roma e zona D, come vedremo, sono accesi per un certo periodo dell'anno e per un certo orario durante il giorno. Roma sono 150 giorni di riscaldamento. Se andiamo a Palermo, che zona A o a Catania, sono 90 giorni, in quei casi la convenienza è ancora di meno. Quindi, comprare la condensazione per usarla tre mesi all'anno per sei ore al giorno non è più conveniente. Se invece andiamo in una zona molto fredda, allora il vantaggio è più consistente. E bisogna sempre vedere. Cioè, non esiste l'impianto ideale di quello migliore. Bisogna vedere l'uso, l'applicazione e quindi fare delle considerazioni diciamo dei costi alla fine. sempre rienti anche io. Allora, altra volta però non avevamo parlato di questa condensazione, avevamo parlato solo delle caldali atmosferiche che pressurano. Ma io delle caldali a condensazione venne da fare proprio. Non parla niente. No, no, ve lo dico perché non è così. se no fassero gli asceni però è così, tanto così. Ma in realtà, esatto, la condensazione. Non vediamo proprio. Non vediamo proprio. Però diciamo, tanto che rientriamo nell'ambito delle condense, delle corrosioni, poi comunque sia sono caldali presenti sul mercato, è bene un pochettino ne parliamo. Ma non più di tanto perché, ve l'ho detto, non abbiamo moltissimo tempo. Io non solo mi devo assicurare che siete pronti, poi vi devo interrogari a tutti. E insomma, se poi superate tutti l'esame, insomma, siamo contenti tutti. Se no, se ce ne mette le penne qualcuno... Allora, detto questo, sentiamo velocemente Aloisi. Aloisi, dove stai? Aloisi, dici la pressione che cos'è? Dici come si misura, qual è lo strumento. Lo strumento è il manometro. Oh, lo strumento è il manometro. E quindi tu misuri una pressione, l'unità di misura, qual è? Il più grande è il 100 metri quadrati. Bene, invece è il sistema. Manometri moderni? lega pascalio. Lega pascalio, il bar, diciamo, è la misura più diversa. Il bar. Se abbiamo una corona d'acqua, per avere la persona di un bar, 10 metri quadrati. La viscosità, che cos'è? Eh, non è la densità, anche se c'è una certa attività, diciamo. Densità è il servizio specifico. La viscosità, si misura in gradi gradi angler riguardo i combustibili liquidi. E c'è altre cose. La combustione del carbonio. Quando il carbonio brucia bene, cosa produce? Ecco, lì ti dà un 30 nega, a cercare. Anzi, per caso, perché la pena di corte non c'è, no? Quando brucia bene, dite il CO, fanno tutto un salto sulla sepe, tutta la commissione. Quando il carbonio brucia bene, cosa sono? Lui ha detto, triunfa il CO. Che scrive? CO2. CO2, che si chiama diversamente angli di carbonio. Agli di carbonio. Invece, il monosso di carbonio è tipico di agli carriorussi. Sembra la combustione dell'idrogeno. Cosa scrive? L'idrogeno è un componente del combustibile. Brucia con l'aria, esattamente, brucia con l'ossigeno. H2O. Il vapore è anche, ma quella è la temperatura. Deve studiare. Sono weekend, di sera dalla passaggione. L'esame è una prova orale? La prova è orale su questi strumenti. Ah, sono orale? Ma aggiornate sui strumenti. Sì, sono orale, però mezzo esame è più o meno sui strumenti. Allora, stavamo presso delle cartelle le abbiamo viste, Marina, presciutizzata. Sì, no, ma di però. Allora,